Benvenuti a MeteoGiulianci.it. Oggi giovedì 23 febbraio, bel tempo su quasi tutto il centro nord, ancora nube e piogge invece al sud per un vortice di bassa pressione centrato al sud della Sicilia il quale seguita a inviare intensi venti di scirocco sulle regioni meridionali. Ma vediamo la mappa del satellite virtuale e vedete appunto le nuvole che ricoprono le regioni meridionali. Un po' di nuvole in realtà anche al nord, nuvole che però sono innocue e dovute al passaggio di una debole perturbazione atlantica. Che tempo allora farà oggi? Vedete il sereno sulle regioni centrali sulla Sardegna, le nuvole innocue sul nord Italia, nuvole invece anche sulle regioni meridionali con piogge sulla media Puglia, sulla Lucania, sulla Calabria e sull'est della Sicilia. Le piogge sull'est della Sicilia potranno essere anche di forte intensità. Per quanto riguarda le temperature massime, queste saranno in ulteriore rialzo e con valori compresi per lo più tra 11 e 14 gradi. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto. Ancora un buongiorno.